La Sardegna sta fronteggiando l'emergenza sanitaria coronavirus con grande forza e determinazione nonostante le difficoltà evidenziate negli ospedali e nelle residenze per anziani. Il consigliere regionale del PD Roberto De Rio fa il punto della situazione. Inizialmente abbiamo avuto una carenza di materiali, dei famosi dispositivi di protezione individuale. Abbiamo avuto un'incertezza nel seguire le procedure di sicurezza. Questo abbiamo notato che è un disagio che parte dall'alto e arriva fino all'ultimo operatore. Poi ora un pochino si risolve la situazione mentre arrivano questi dispositivi, purtroppo molto in ritardo e si consolidano le procedure di sicurezza. Ognuno di noi impara a comportarsi e così hanno imparato anche dentro le strutture sanitarie. Si sta aprendo un nuovo fronte che è quello delle case di riposo, dove ci sono le persone più deboli e che maggiore propensione hanno ad ammalarsi gravemente di questa malattia e quindi devono scattare misure di protezione rafforzate e controlli molto severi. Perché una volta che il virus entra lì, insomma è come la volpe che entra nel pollaio, purtroppo. Ora non è il momento di fare polemiche. Sicuramente noi non abbiamo scelto di appoggiare il Presidente della Regione, la Regione nel tentativo di limitare al massimo la malattia. E così facciamo anche sulla politica economica in questo momento necessaria per cercare di salvare tutte le imprese e salvare ciascun posto di lavoro. In concomittanza con l'emergenza sanitaria però bisognerà fronteggiare al più presto quella economica conseguente alla chiusura forzata della maggior parte delle attività. Innanzitutto ci siamo preoccupati per il turismo perché è la prima frontiera di questo disastro. Queste imprese devono essere tenute in vita, nel senso che bisogna impedire che se falliscano bisogna riuscire a conservare da un lato la mano d'opera, e questo il governo l'ha fatto con l'estensione generalizzata dalla Cassa Integrazione, però bisogna anche conservare gli imprenditori e le imprese stesse.